la polizia compie 172 anni il bilancio di un anno di attività a pesaro vigili del fuoco continua la ricerca di una nuova caserma caso riceci in tribunale la manifestazione a sostegno di gialluca carras cantiano piccini si ricandida per continuare il percorso di rilancio dopo l'alluvione cagli gemellaggio con la città cinese di long chuan per aprire nuove frontiere buona serata ben ritrovati al nostro telegiornale oggi mercoledì 10 aprile apriamo questa edizione occupandoci del 172esimo anniversario di fondazione della polizia tenutosi per l'occasione nella nuovissima cornice dell'auditorium scavolini proprio questa mattina vediamo il bilancio allora di un anno di attività intensificatosi con il riconoscimento di pesaro capitale della cultura 2024 è stata la nuovissima cornice dell'auditorium scavolini ad ospitare le celebrazioni pesaresi del 172esimo anniversario di fondazione della polizia di stato una polizia pesarese che nell'occasione ha tracciato un bilancio su un anno di attività intensificatosi in linea all'elezione di pesaro allo status di capitale della cultura è infatti cresciuto del 10 per cento l'impiego di pattuglie sul territorio e del 15 per cento i controlli attività che fra i vari numeri si declinano nei 36 arresti e 120 denunce in stato di libertà da parte della squadra mobile con 12 misure cautelari relative ai reati di codice rosso un'attività trasversale a più ambiti tra i quali l'impegno nel settore immigrazione le truffe e reati predatori l'attenzione specifica allo spaccio di stupefacenti nell'area gravitante attorno al parco Miralfiore con le positive conclusioni di indagini su bande albanesi e italo-venezuelane come ho voluto fare iniziando proprio nel ringraziare chi talvolta non si percepisce neanche che lavori per la nostra sicurezza perché noi guardiamo le volanti la squadra mobile fa le grandi operazioni il reparto mobile va allo stadio però diciamo che la nostra è una struttura complessa che ha il bisogno del lavoro di tutti più o meno visibile e che noi tutti il giorno diamo il massimo di quello che possiamo dare non sempre riusciamo a ottenere tutti gli ottimi risultati che vorremmo però non può mai essere messa in discussione la grandissima dedizione i valori fondamentali e fondanti della polizia di stato sono emersi in tutta la loro meraviglia in tutta la loro importanza quindi ringrazio il questore per l'attività e per l'opera che svolge quotidianamente ringrazio tutti gli appartenenti alla polizia di stato e noi cittadini grazie a loro ci sentiamo sicuramente più sicuri a casa nostra grazie il coro del grillo d'oro accompagnato musicalmente una cerimonia inserita nel solco del tema esserci sempre nell'occasione il questore francesca montereali e il prefetto emanuela saveria greco hanno premiato con encomi promozioni e lodi gli operatori distintisi per merito di servizio giuseppe sepede vincenzo ciavarella agnello de rosa roberto sonnante patrick de luca emanuele ranaldi vincenzo scimone luigi cerrone enrico severa e luca vitali così come sono stati premiati con pergamene i cittadini distintisi per segnalazioni e comportamenti di spiccato senso civico ringraziamenti al presente così come al sacrificio dei caduti per l'ordine pubblico al quale il questore ha rivolto il proprio pensiero noi abbiamo sempre nella nostra mente i nostri caduti che non sono solo i caduti dell'epoca del terrorismo che quelli forse uccisi dalla mafia che forse è più facile ricordarli ma soprattutto la polizia stradale paga un altissimo tributo di vite umane perché il nostro lavoro non sembra ma veramente a volte ha degli elementi di rischio che forse altri non percepiscono quindi il nostro primo pensiero è sempre alle nostre vittime e dalla polizia passiamo ai vigili del fuoco che da tempo invocano una soluzione diversa rispetto all'attuale caserma le alternative prospettate dal consiglio comunale non sono però state ritenute idonee secondo gli standard ministeriali vediamo il servizio i vigili del fuoco di pesero cercano una nuova caserma più funzionale sia strutturalmente che logisticamente da quella attuale sulla statale adriatica le due ipotesi però prospettate dal consiglio comunale in tempi recenti non sembrano rispondere all'idoneità di standard richiesti dal ministero e quanto emerso ieri dalla visita del sottosegretario al ministero dell'interno Emanuele Prisco accompagnato nell'occasione dai vertici del comando dei vigili del fuoco dai candidati a sindaco di centrodestra per pesero e fano Marco Lanzi e Luca Serfilippi e dal consigliere regionale Nicola Baiocchi i siti in zona interquartiera in zona Santa Veneranda non sono risultati abbastanza estesi ma resta l'impegno a trovare una soluzione sono state fatte delle analisi i due terreni che sono stati proposti dal comune ancora non sono stati ritenuti idoni per problemi tecnici adesso non sta a me sicuramente a spiegare quali sono le motivazioni certo c'è una volontà da parte del sottosegretario Emanuele Prisco e quindi del ministero e del governo tutto di cercare di trovare una soluzione per dare una dignità ad una caserma che sicuramente ha bisogno di essere ammodernata e sicuramente cambiata quindi lavoreremo sicuramente insieme per arrivare a questo obiettivo poi si è parlato anche della problematica della caserma di Fano e di Macerata Feltria dove le situazioni sono state sostanzialmente sbloccate a Macerata Feltria andremo verso una soluzione si pensa dentro l'anno e invece per la questione di Fano ci sono delle problematiche maggiori il governo ha stanziato ulteriori, il ministero ha stanziato ulteriori soldi adesso la stazione appaltante è in capo al comune di Fano speriamo, ci auguriamo che in tempi brevissimi veramente si risolva questo problema ormai non usa da tanto tempo Ed ora cambiamo argomento nei primi mesi del 2024 nel carcere pesarese di Villa Fastigi sono stati sventati diversi tentativi di suicidio a conferma di una gestione complessa dei penitenziari marchigiani ribadita oggi in Regione dal garante per le persone detenute Giancarlo Giulianelli secondo la relazione del garante Pesaro e Ancona rappresentano i due casi più acuti di sovraffollamento penitenziario con una complessità ingestibile per i numeri attuali di appena 17 psicologi in dialogo con quasi 900 detenuti criticità che in dialogo con il presidente della Regione Marche, Acquaroli verranno ora portate all'attenzione del governo Meloni Nel Tribunale di Pesaro si è aperto oggi il processo a carico dell'esponente di Europa Verde Gianluca Carrabs che ha ricevuto una denuncia per diffamazione da parte dell'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro T. Viroli durante le sue molteplici manifestazioni di impegno pubblico contro la realizzazione della discarica a riceci Fuori dal Tribunale si è oggi tenuto un sit-in a sostegno dello stesso Carrabs Europa Verde questa mattina ha manifestato davanti al Tribunale di Pesaro come segno di solidarietà nei confronti di Gianluca Carrabs e del processo che lo attende in seguito alla denuncia per diffamazione giuntagli da parte dell'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro T. Viroli Si sta celebrando in questo Tribunale un atto grave e arrogante cioè utilizzare la querela per stile intimidatorio rispetto a chi fa critica politica perché voglio ricordare che l'amministratore delegato è un amministratore delegato di Marche Multiservizi che ha al 53% una partecipazione pubblica quindi noi facciamo critica politica e chiediamo che chiaramente sia sottoponibile a chi non la pensa come lui e quindi non debba arrivare in Tribunale per dimostrare le proprie ragioni perché voglio ricordare che ci sono stati innumorevoli interrogazioni parlamentari addirittura c'è stata la visita della Commissione Ecomafia e qui a Riceci proprio su questa questione e non solo il sottoscritto ha rilevato opacità sull'operazione diciamo Riceci ma anche tutti quanti gli altri quindi chi amministra la cosa pubblica chi in questo caso amministra una società che ha la maggioranza pubblica deve sottoporsi alla critica politica non può rimanere fuori e quindi chiaramente oggi è un caso che sia io imputato in questa vicenda perché chiunque, anche un sindaco, anche un rappresentante politico, un consigliere comunale o chiunque altro può essere indagato rispetto alle proprie affermazioni rispetto a una critica politica che non mira assolutamente a colpire il manager la persona che opera professionalmente nelle proprie attività ma un'azione politica che chiaramente la predisposizione di un progetto di una discarica ha una rilevanza sociale enorme quindi noi cerchiamo di rappresentare il nostro punto di vista sappiamo che a Riceci la discarica non deve essere fatta perché è un luogo inadatto perché al centro di un distretto biologico più grande d'Italia al centro di una DOP casearia più importante della regione Marche è un posto in idoneo, l'abbiamo detto, lo ribadiamo e qui anche questa mattina ringrazio i tanti partecipanti di Petriano, di Urbino che sono qui a solidarizzare con i sottoscritti perché non può passare impunita una azione del genere bisogna lavorare insieme per ripristinare la verità e i progetti giusti ed ovvi questo è un progetto fuori luogo, l'abbiamo detto, sia nel merito che nel metodo Dopo un anno da 4.000 infortuni sul lavoro in provincia di Pesaro Urbino le sigle sindacali di CGL e UIL scendono in piazza domani nelle 5 province marchigiane in un 11 aprile di sciopero generale di 4 ore del settore privato proclamato a livello nazionale sicurezza sul lavoro ma anche precariato ed equità fiscale sono alcune delle criticità che i sindacati porteranno al prefetto di Pesaro Urbino Emanuella Saveria Greco in un sit-in che in piazza del popolo comincerà alle 10.30 Ed ora parliamo di politica continuiamo la nostra marcia d'avvicinamento verso le elezioni amministrative di giugno appunto di quest'anno oggi parliamo del comune di Cantiano attraverso questa intervista al sindaco Alessandro Piccini che si ricandida per continuare il già avviato processo di rilancio post alluvione Alessandro Piccini si ricandida a sindaco di Cantiano mentre sta per concludere un mandato amministrativo trascorso nella perenne gestione dell'emergenza il primo cittadino punta a proseguire quel percorso di ripartenza del comune alle pendici del Catria Un'assunzione di responsabilità e una dichiarazione di intenti confermata anche alla presentazione dell'edizione primaverile di Cantiano Fiera Cavalli uno degli eventi simboli del rilancio cantianese Non è stata una scelta semplice perché credo che quello che lasciamo alle spalle sia stato il mandato più difficile dal dopoguerra ad oggi oltre quelle emergenze che hanno vissuto tutti quindi il covid, l'aumento dei prezzi a Cantiano è toccato tre anni di lavori sulla direttrice principale, sulla Flaminia otto mesi di chiusura fisica di accesso verso l'Umbria e purtroppo la devastante alluvione del settembre del 2022 che avrebbe potuto azzerare le sorti del paese quindi oggi soddisfatti di aver comunque intrapreso una strada che rilanci ormai in maniera certa le sorti del paese tanto ancora c'è da fare abbiamo un paese da ricostruire sia nelle infrastrutture ma anche nella serenità dei cittadini quindi è per questo, per senso di responsabilità per dare continuità a quella difficile azione amministrativa che vede tessere ormai da mesi, da un anno e mezzo rapporti con i più alti livelli istituzionali dal Ministero, dalla Regione, dagli enti e dai soggetti attuatori che abbiamo voluto dare continuità a questa nostra azione inaugurando, mi auguro, una fase di rigenerazione urbana e di crescita prosperosa del paese e chi non si può ricandidare per il terzo mandato è invece il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che però venerdì 12 aprile terrà una grande cena popolare a conclusione del tour di 70 presentazioni del suo libro Pane e Politica cena popolare che si terrà nell'ex quartiere fieristico di Campanara e che da oggi è definitivamente sold out nell'occasione Ricci discuterà delle prossime elezioni amministrative della sua disponibilità di candidatura alle elezioni europee L'attuale preoccupante calo delle nascite diventa oggetto di un convegno che si terrà domani, giovedì 11 aprile alle ore 21 a Palazzo Montani Antaldi di Pesaro Il titolo è De Natalità fra incertezza del futuro e mancanza di speranza e ad intervenire sul tema saranno Gianluigi De Palo, presidente della Fondazione Natalità Paolo Marchionni, direttore di medicina legale dell'AST Pesaro Urbino il vice sindaco Daniele Vimini, il vescovo Sandro Salvucci e Thomas Nobili, presidente del centro servizi volontariato L'EMPA, ente di protezione animali di Pesaro ha ora dei nuovi locali per coordinare la propria attività L'assessore comunale Maria Rosa Conti ha consegnato alla presidente EMPA Costanza Lucchino le chiavi di una sede in corso 11 settembre 221-223 concessa e incomodato d'uso gratuito per 5 anni per essere punto di riferimento cittadino rivolto alla tutela degli animali e in particolare al monitoraggio delle colonie feline Da 19 anni è diventata un riferimento sul territorio per la formazione dei professionisti di impresa Parliamo della Scuola per Imprenditori di Confartigianato che questa settimana ha inaugurato le sue lezioni nella nuova sede pesarese in zona Torraccia Si apre oggi presso la sede della Confartigianato la 19esima edizione della Scuola per Imprenditori Tema l'intelligenza artificiale Un mondo ancora tutto da scoprire e in questa serie di sei incontri a servizio degli imprenditori verranno analizzate tutte quelle potenzialità e tutti quei servizi che possono servire a essere utilizzati nel mondo dell'impresa e del mercato della Confartigianato Inizia la 19esima edizione della Scuola per Imprenditori e in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche e l'Università Politecnica di Ancona e l'obiettivo, come dicevamo, è quello di dare dei supporti delle informative, di formare imprenditori di oggi e di domani sulle applicazioni, su il plus che può dare il plus che può dare l'intelligenza artificiale a misura di impresa ovviamente Durante le lezioni verranno sviluppati tutti i temi a misura di impresa su come quest'ultima possa utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale quindi i trend di mercato, l'analisi di marketing l'analisi dei competitor quindi tutti quegli strumenti utili a formare gli imprenditori sul miglior utilizzo dell'intelligenza artificiale a misura di impresa ovviamente Si può ancora iscrivere perché l'attestato finale viene dato dopo con l'80% delle lezioni partecipate e le lezioni saranno sei sull'intero corso sviluppate su tre mesi ogni due lunedì al mese dalle 18.30 alle 20.30 Prosegue la settimana da Capitale della Cultura di Cagli e lo fa anche all'insegna di nuove relazioni internazionali tra queste l'ufficializzazione del gemellaggio con la città cinese di Longchuan Oggi Cagli ufficializza il suo gemellaggio con la città cinese di Longchuan andiamo a scoprire di cosa si tratta L'idea viene dalla signora che è nata a Longchuan ma residente a Cagli da ormai da parecchi anni quindi lei ha proposto l'idea io con lei l'ho portata avanti e l'abbiamo proposta al Comune nel giro di qualche anno siamo riusciti a formalizzare il Comune ci ha dato una grande disponibilità un grande interesse quindi diciamo da qualche mese è formalizzato anche a livello ministeriale il gemellaggio fra due città sono due città un po' diverse perché Cagli è molto più piccola di Longchuan Longchuan è molto grande quindi l'idea è di fare un gemellaggio di zona nel senso che Cagli si fa promotrice di un gemellaggio che coinvolge un po' tutta per noi anche tutta la provincia se c'è disponibilità comunque almeno i comuni attorno che possono usufruire di questo contatto questo gemellaggio vorrebbe portare e lo porterà sicuramente un bello scambio culturale e anche commerciale commerciale perché no con prodotti non gastronomici ad esempio cosa che oggi avremo modo già di testare in qualche modo e soprattutto ci piacerebbe che portasse un gemellaggio di natura culturale ampliando un pochino gli orizzonti dei nostri giovani è già avvenuto questo perché i ragazzi di Longchuan si sono incontrati con i nostri giovani online quindi hanno già avuto un piccolo scambio di quella che è l'educazione formale da noi e da loro Da 20 anni fa io vivo qua a Cali mi sento molto bene per tutta la gente tutti gli amici molto gentili Cali è nel mio cuore il secondo paese come Natale e voglio fare come un ponte costruire un ponte per fare due città voglio più vicino come due palenti più vicino vogliamo fare Queste occasioni come il gemellaggio di oggi come qualsiasi altro ponte culturale che si crea tra il nostro paese e la Cina sono tutte quante occasioni per comunicare per scambiarsi informazioni per avvicinarci in qualche modo soprattutto rilevante in quest'epoca in cui piace più costruire muri piuttosto che ponti quindi questa è un'occasione fondamentale che è replicata su larga scala ci può sicuramente avvicinare al popolo cinese Credo che quello che può portare chiaramente una città come L'Unciano della Cina ci può portare tanto non dobbiamo e noi altrettanto possiamo dare quindi io ho visto fin da subito tutti ne abbiamo visto fin da subito positivo questo questo gemellaggio ma lo vediamo con l'animo veramente sereno di chi non teme e di chi sa che insomma tutti e due le realtà avranno da guadagnare quindi da crescere I cinesi sono un popolo che ama viaggiare e hanno di fondamentale un fondamentale riconoscimento per la cultura italiana e quindi mettere in rete la cultura cinese con la cultura italiana attraverso la città di Cagli che di cultura ne ha da vendere a cominciare dalla cultura romana che appunto i cinesi riconoscono e la cultura rinascimentale con la tradizione culturale cinese è veramente straordinario e questa era davvero l'ultima notizia vi ricordo di rimanere sempre collegati sui nostri social e sul nostro sito rossinitv.it e per chi volesse anche questa sera ancora sul canale 80 e allora andiamo a vedere la programmazione per Rossini TV innanzitutto tra pochissimo troverete il consueto approfondimento dedicato a Pesaro 20 e 24 con tutte le notizie relative appunto alla capitale italiana della cultura di questa settimana e poi alle 21 e 20 invece andremo a vedere le bellezze della città di Pesaro partendo dal parco Miralfiore e subito dopo alle 21 e 40 da Pesaro ci spostiamo a Cantiano dove è stata presentata l'edizione primaverile della Fiera dei Cavalli domani mattina vi aspetto alle 7 e 20 in diretta con la nostra rassegna stampa vi ricordo che potete vederla in replica anche alle 8 e 20 alle 12 e 20 alle 14 e 20 e alle 18 e 20 di domani e poi domani che è giovedì tornano una nuova puntata e attesissima puntata di Insieme a Canestro perché domani avremo Meo Sacchetti l'attuale coach della Carpegna Prosciutto Pesaro ci sarà anche Kevin Bertoni che è giornalista di Dazon e vi ricordo che potrete partecipare attivamente al programma commentando nel nostro numero di Whatsapp oppure nella nostra diretta Facebook perché potrete ricevere biglietti gratuiti per la prossima partita in casa la Vitre Frigo Arena che si terrà sabato alle 20 e 30 e adesso per voi il meteo vediamo come sarà il tempo per i prossimi giorni buona serata